Can era un uomo fuori dal comune, ma penso anche che fosse un uomo del suo tempo, a metà strada tra la luce e il buio, alla ricerca di risposte sepolte tra le rovine. Andiamo. Lo senti arrivare a quanto vedo? È un talento raro, dovresti usarlo. Ora non muoverti. Non muoverti. La chiamiamo anomalia. Un fenomeno nuovo, in un mondo nuovo. Un fenomeno insidioso, vero? Ma sai, non è più cattivo del fuoco, tanto per fare un esempio. Dipende tutto dal tuo punto di vista. Cerca di capire meglio le cose prima di giudicare. E ora andiamocene qui, non siamo al sicuro. E ora andiamocene qui, non siamo al sicuro. E ora andiamocene qui, non siamo al sicuro. Preparati. Le bestie ritornano. E ora andiamocene qui, non siamo al sicuro. Stai fermo. Non è il caso di interferire. Funziona così. Una dimostrazione. Sale sul cannello. La galleria dovrebbe essere sicura più avanti. Ci arriveremo facilmente. No. 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 Grazie a tutti.